C'è un problema di implementazione delle nuove tecnologie. L'implementazione significa che dopo aver fatto tanti investimenti, come ho già detto prima, nella fase di ricerca e di sviluppo, dopo aver anche individuato una soluzione, questa soluzione poi non viene implementata. Queste soluzioni possono essere, per esempio, nuove farmaci, ma possono essere anche soluzioni digitali. Oggi, in questi due giorni di convegno, in effetti quello di cui si è discusso è proprio l'implementazione di tecnologie digitali in sanità. Ebbene, anche in questo caso, qui scontiamo dei deficit di tipo applicativo, quindi di implementazione. Questo fa sì che in Italia le situazioni siano anche molto diversificate, tra nord e sud, tra est e ovest, e qui non c'è una regola precisa, secondo cui a nord ce n'è di più e a sud ce n'è di meno. Assolutamente no. Sulla situazione a macchia di leopardo ci sono eccellenze sparse qui e là, senza un disegno sottostante di tipo organico. E questo probabilmente si deve al fatto che quando le persone sono motivate, le persone vedono in questa innovazione qualcosa che li può aiutare, queste vengono implementate.